Il frutto del vostro amore è il piccolo Paolo, e noi signori ti manda ad essere nel mondo testimoni annunciatori del vostro amore e del suo amore, soprattutto. Siamo in chiesa per presentare i tuoi giovani al Signore, perché le dedica, custodisca e accompagni la loro vita matrimoniale. L'amore tutto copre, tutto crie, tutto sfida, tutto sopporta. Grazie. Grazie. Grazie.